Mare calmo, sole, è un villaggio allestito in piazza Diaz per seguire le gare minuto per minuto. Al via a Bari mondiali di Coastal Rowing, una nuova specialità di canottaggio che si può praticare in mare. Uno sport che per la prima volta unisce agonismo e promozione del territorio. 173 gli equipaggi iscritti in rappresentanza di 19 nazioni per un totale di 500 partecipanti. Un'occasione per far conoscere Bari e non solo per i suoi talenti sportivi. A tagliare il nastro nel villaggio allestito in piazza Diaz è stato l'assessore provinciale alla cultura Nuccio Altieri che ha evidenziato il grande contributo della provincia alla manifestazione attraverso l'acquisto di alcune imbarcazioni. Abbiamo acquistato delle imbarcazioni da canottaggio per contribuire in maniera fattiva anche alle gare ma soprattutto per lasciare ai tanti studenti universitari che si allenano al CUS delle imbarcazioni mondiali su quali allenarsi e avere altri olimpionici di questa disciplina nella nostra città. Per quanto riguarda la manifestazione sportiva sono sei titoli da assegnare per la categoria assoluti singolo, doppio e quattro di coppia maschile e femminile. Per la qualificazione dei doppi è stata l'Italia a primeggiare con imbarcazioni Murcarolo, primo posto Saturnia, secondo, terzo posto per i francesi, quarto ancora per l'Italia con l'imbarcazione Posilipo e infine quinto posto per il CUS Bari.